Fallito anche l'ultimo appello lanciato da Fratelli d'Italia agli azzurri di Nazario Pagano, diversi dagli azzurri di Mauro Febbo, alla seconda giunta di Primio non resta che sperare nella buona sorte o almeno nella paura del rischio insito in ogni caduta di governo, grande o piccolo che sia, la perdita degli emolumenti. Dunque siamo di nuovo allo scontro, andato in scena oggi in Tecnicolor a partire dalle 10.30, orario della prima convocazione del Consiglio Comunale sul bilancio, da approvare entro domani. Si comincia sì, ma da quel momento in poi è un continuo movimento di pedine umane messe sulla scacchiera, ossia nell'aula, aggiunte da una parte e tolte dall'altra. Al momento del voto però è rimasta solo l'opposizione e dunque non basta. Se ne riparlerà domani alle 15.30, quando la seconda convocazione farà scendere i numeri necessari all'approvazione e forse anche le velleità di qualcuno messo improvvisamente di fronte allo spauracchio del commissariamento, quello vero. Non abbiamo sprecato una mattinata perché abbiamo fatto la discussione sul bilancio consuntivo. L'assessore ha mirabilmente illustrato quelli che sono i punti di forza di questo bilancio consuntivo che innanzitutto si chiamano parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Domani faremo dichiarazione di voti e voto. Se fossimo andati avanti con la seduta non avremmo avuto i voti, è inutile continuare a parlare. Verosimilmente da oggi a domani che cosa potrà cambiare? Nulla. Cambia il numero necessario per avere il numero legale. Se non dovesse approvarsi ci sarà il commissario e ci sarà l'apertura di una crisi che non è però del Comune di Chieti ma è politico regionale perché non si gioca con un capologo di provincia, con i metodi soprattutto che sono stati usati fino adesso da Forza Italia. La maggioranza non è più numeri, non esiste. Domani io immagino che tra il Sindaco e Forza Italia troveranno la quadra, l'accordo perché la realtà è che nessuno vuole abbandonare la poltrona. Questa è la realtà ed è triste perché noi, ripeto, da mesi si discute di come votare il bilancio, oggi come votare il consuntivo, ma dei numeri presenti in Consiglio, non della qualità del progetto che c'è sulla città. Avremmo votato no all'approvazione del consuntivo, cosa che faremo anche domani perché abbiamo delle perplessità, non sono neanche più delle perplessità, abbiamo delle certezze relative all'illegittimità con la quale appunto questo bilancio è stato predisposto dall'Aggiunta. Il commissario profettizio arriva o no? Questo dipende dalla capacità che avranno Forza Italia e il Sindaco di ricucire questo strappo. A mio avviso nessuna delle forze di maggioranza ha reale interesse alla fine anticipata di questa consigliatura, quindi anzi hanno tutto quanto ancora da guadagnare nella prosecuzione fino alla fine del mandato, fino alla scadenza naturale, quindi non escludo che un accordo last minute possa essere trovato.